Quando abbiamo saputo di questo accordo abbiamo raccolto, ce li ho qui, guardi, 615 firme nella zona della Vigio Letto di Sant'Antonio e limitrofe, diciamo così, perché riteniamo che questo supermercato proprio non sa da fare, perché innanzitutto anche da un punto di vista proprio legislativo non ha senso perché quella è una zona inedificata, quindi in base alla legge 24 2017 dovrebbe rimanere tale, nel senso che oramai non ci sono sopra degli edifici dismessi, non era una zona produttiva, quindi assolutamente è un campo incolto e pertanto non è previsto dalla delibera del Consiglio Comunale del 2019 numero 8 che questo campo possa essere assegnato, ci possa essere costruito un parco commerciale, poi lo chiamano parco, io lo chiamerei insediamento perché i parchi per me hanno un altro significato. Da residente, cosa vi fa paura dell'avere un supermercato vicino? Da residente ci fa paura il fatto che di supermercati ne abbiamo tantissimi, noi lì in quella zona e quella lì è una zona ovviamente ancora permeabile che tra l'altro dà sulla tangenziale, dà sui vie in Audi dove inizia la bretta della tangenziale, quindi potrebbe essere tranquillamente forestata ulteriormente perché lo è diventata un po' per i fatti suoi a forza di stare lì in colta, gli alberi crescono anche da soli per fortuna e quindi è sicuramente una zona di sequestro del CO2 e sicuramente qualsiasi cosa venga costruita lì per quanto si usino tutte le tecnologie che si vuole non potrà mai essere il suolo e sarà rovinato per sempre ovviamente e in più possono usare tutte le tecnologie che vogliono ma il danno ci sarà comunque, possono mitigare il danno ma il danno ci sarà comunque, oltre al fatto che si riverserà altro traffico sulla via in Audi.